Cicu cicu qui falco a tutti, qui falco a tutti per la rubrica quelli che il falco volevo oggi raccontarvi un aneddoto di quando ero giovane, abbastanza veloce che praticamente si andà a una paninoteca famosissima a Ufanengo, il Sangò dove che Laura, non cito nomi per rispetto della privacy una misa, un'amica di un'amica in pratica e questa che il Sangò vuoi spiegare, l'era mia un piano solo cioè l'era due piani, che era un po' sotto, avevo visto un uomo praticamente ti fai la scala abbastanza in piedi ti andai giù sotto e ti sei tranquillo, intimo, romantico, no? per di se, dicendo che, aveva laurale che nel corso degli anni le furono dati diversi nickname in particolare la chiamata l'anticipatrice oppure comes first nel senso che, praticamente, te quanta riai là, ti chiamiamo in sess zona soggetta a restrizioni ambientali più avanti assicurati di avere l'autorizzazione richiesta come andai per esempio, taugurata la sess, sess medie, sess biremedie allora, riasso dalle scale, prima le e dopo ria le biremedie la burlata su dalle scale, l'anticipata la comanda, ecco perché l'anticipatrice all comes first riai prima le abrigolù su dalle scale, dopo riai caraffi da edre, birra, vassoio, salatini, termisti da sedo, salè sono messi 100i, k papà